Musica Bene, eccoci qua, Core Nordlis, Norvegia, 1943, vediamo un po'. La Norvegia è occupata da tre anni, anni in cui non ha mai conosciuto la pace. Aiuta l'esistenza di trovare un suo membro disperso. Ok, anche qua le lettere sfide, vabbè ok, se le completiamo bene, l'importante è finire l'episodio. Vai, iniziamo, difficoltà difficili, va benissimo, ha un buon livello di sfida. Juken, Norvegia, primavera 43. Mentre la guerra infuria in tutto il mondo, l'ombra della svastica si allunga sull'Europa occidentale. La Germania schiera 400.000 soldati della Wehrmacht per mettere in sicurezza il fronte settentrionale e soggiogare la popolazione norvegese, di soli 3 milioni di persone. Lungo la costa frastagliata, la Norvegia assolgono numerosi porti della Kingsmarine e base aeree della Luftwaffe. La popolazione locale è controllata dalla James Polizei. Vabbè, i diritti sono sospesi, le sparizioni si moltiplicano, ogni dissenso viene soffocato. Dittatura, grazie. Nessuno sfugge al dramma dell'occupazione. Ma la guerra non è ancora finita. Nessuno sfugge al dramma dell'occupazione. Nessuno sfugge al dramma dell'occupazione. Nessuno sfugge al dramma dell'occupazione. Io ho sempre pensato che il loro lando è davvero bello e distrazione. Come ho detto che i miei bambini mi storie di scopi di monstri in la scuola. Me miei 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 bambini sono ancora in Tyskland. La mia famiglia è davvero molto. Quindi sono qui qui. Per il gioco. E' stato dei monstri in scogli. For tre giorni, l'unica britannica ha fatto un'annimità per l'aiuto del tecnico. Il gioco non è successo. Non si è morto, e ci sono fangati. Ci sono. Ci sono che qualcuno è qui. Contro a me chi è. Ci sono storie di storie di scopo di norsi scogli, Lieutenant. Ma tu dovrei preoccupare a te che non ci sono qui qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Beh, se è quella del video, oddio, è dentro quell'edificio. Grazie a tutti. Piano, 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 eh, rende bene l'idea, anche se ho sciato solo una volta, quindi, oddio, eh, mi sono... ok, posto. Io volevo andare piano, ok, ci facciamo uscire di fondo, no? Oh, no, pensavo che siamo arrivati. Ok. Piano, eh, qua vedo un bel burrone, insomma. Ah, basta? Cioè, ci siamo tolti in automatico? Questo non avrà il silenziatore. Albi, sì, albi, sì, albi, no. Eh, ok. Eh. Se viene indurato da un riflettore, la zona entrerà in stato d'allerta. Beh, anche in questo caso... È una missione di infiltrazione. Eh. Cosa abbiamo? Questo? Basta. Basta. Vabbè. Sì, ok. Amici in arrivo. Di sento. Lancia coltello. Di sento, ma... Ma è solo lui? Eh, ma che cavolo. Sì? Sì? Ecco. Aiuto. Iniziamo bene, eh. Non le grida. Raccogliere. Era di sepoltura, aspetta. Prendiamo. Non si sa mai. Ah, una lettera. Ah, più possibile lontano dai pericoli. Ne vado. Da la zona, meglio, eh. No, però nessuno si è... C'è un po' di vociare, ma... La fine. Eh, come lo becco. Quello devo avvicinarmi per forza. Devo salire e prenderlo alle spalle. Eh. Ma meno male parlano, perché... Almeno... Si sentono e... Guarda, qua ce n'è uno. Però... Ok, lì, vediamo. Ok, nessuno si è accorto di niente. Però i coltelli da lancio... Sono un po'... Sono limitati, eh. Beh, mi ha visto? Aspetta. Mi stava vedendo, eh. Eh, ma qui la vedo molto dura in stealth, eh. Ah, fide uno alla volta e ne ricarichiamo. Perché è rimasto così? È rimasto così? La mano. Fammi cambiare arma, ecco. Ok. Si era buggata la mano. C'è un po' di bug, eh. In generale. Magari si stemeranno. Insomma, bug, diciamo, in questo caso... Un po' comici. Ok, andiamo. Prima di tutto, direi riflettore. Facciamo bene il giro qua. Abbiamo cinque coltelli. Ah, quindi... Ah, magari si possono recuperare, però. Effettivamente, ha senso. Però uno l'abbiamo lasciato niente. Mi pare che ora non sei. Ora io... Andrei prima su, eh. Ok. Poi, magari lo prendo questo qua. Ecco, esatto. Corpo, corpo. Ok. Lui? No, non... Sbircia. Ok. Però... Se io faccio... Sì, sì, ok. Ha funzionato. Allora, vado... Per scendere, prende... Eh... Non ha preso in automatico. Vabbè, tanto ci ricarichiamo la vita. Mi va bene. Ok, siamo bassi. E direi che anche lui... Ah, ecco, ok. Tengo premuto. Ok, ok. Eh, meglio. Vediamo. Cinque. Abbiamo sempre cinque. Ah, adesso sei di coltelli addirittura. Quindi magari ce li hanno in tasca, questi. Vabbè. Comunque, eh... Per andare di là... Sì, passare dal ponte è la via più diretta. Però è anche la via per farsi scoprire. Già... Facciamo scoprire abbastanza facilmente. Vediamo di qua. Si può andare. Sembra... Sembra di sì. Non c'è una via secondaria. Vediamo. Eh, c'è un bel burrone, però, eh. Mmm. Ah, ma aspetta, guarda. Sotto. Si può passare da sotto. Andiamo. Ok. Teoria. Sotto. Eh, non c'è nessuno neanche. Non mi dovrebbero vedere. Eh no, perché giù magari si può passare, eh. Però... Poi per risalire, boh. Ok, siamo dall'altra parte. Ecco, mi segna già gente. Allora, prima, direi riflettore. Come prima. Ok, qui non dovrebbero vedermi. Andiamo, eh. Guarda, è venuto un colpo. Ok. Ok, preso. Ah, sono dentro la casa. Aspetta. E prendo. Ecco il coltello. E poi vado su. Andiamo. Cosa hai detto? Scusi. Ok. Aspetta. Secondo... Un po' riuso. Ah, guarda, c'è l'allarme. Ok, marcato. Guarda, c'è qualcuno qui. Vediamo che ci sono. Ma, per scendere... In sicurezza. Solitamente appare tipo E, no? L'input per scendere, ma... Non appare. Cioè, volevo mettermi al contrario. Ok, la devo prendere così, ok. Ok. Allora. Disattiviamo. Scusa, qualcuno mi sta guardando. Ma chi? Quello è girato di spalle. Ah, uno là, guarda. Ok. Beh, l'allarme è disattivato. Quindi adesso... Non ci sono problemi. E per interagire... Sì, ammazziamoli. Io li ammazzo tutti. Sono... Eccoli qua. Marchiamo anche lui, no? Ok. Però qui... Aspetta, devo fare... Ok. Ha reagito però in maniera un po' lenta, eh. Io l'ho premuto per lanciare, ma ci ha messo comunque un po'. Ok. Meno male che loro non hanno sparato. Ok. Dio, la musica... Non la fai spegnere. Ecco. Grazie. Silenzio. Ok. Non so che qualcuno si era allarmato. Ok. Chiuderei. Ah, sì, vai. Qualcuno... Sta venendo a controllare. Allora... Approfittiamone. Non è morto? Eh, Mizzega, no. Gli hanno lanciati due. Mizzega. È che li ho recuperati, ma... Forse è un bug, in questo caso. Un bug un po' problematico, in questo caso. Eh, però ha reagito bene. Ho spento la musica e giustamente ha reagito, visto che era qua vicino. Eh. Ci n'era uno lì. Eh. Eh, però guarda sempre di qua. Eh. Che cavolo. Aspetta, eh. Oh. Sbircio. Niente, anche se sto basso mi vede. Ok, qua no. Devo prenderlo. Ok. Preso. Alla Rambo. Eh. Ok. Ok. Ok, c'è qualcuno che mi sta guardando, forse. Va bene. No, ci n'era uno. Eccolo lì. Sì, forse era lui che mi stava guardando, anche se... Non è apparso niente. Vediamo. Vieni, l'ho preso al piede. Oh. Ed è morto. Eh. Ok. Ok, grazie. Allora, proseguiamo. E di qua non mi dispiacerebbe. Voglio andare per vie secondarie. Vediamo dove andiamo a finire di qua. Ecco, delle voci. No, l'audio è fatto molto bene. Con le voci, grazie alle voci. Bisogna comunque capire anche da che parte arrivano. Poi loro sono degli imbecilli, visto che parlano. Pazzo di neve. Attenzione. Eccoli qua. Ok. C'è il capitano. Poi qua ho sentito qualcuno. Che starnutisce, forse. Mi vedranno, spero di no. Ah, là c'è un altro riflettore. Beh, non me lo marca. Vabbè. Salute. Sta starnutendo questo? Ah, starà... Ah, non sta scavando. Pensavo che stava scavando. Oddio. Aspetta, togli, togli. C'è qualcuno lì, eh. Non male. L'ho abbassato. Ok, marchiamoli tutti. Quello forse è troppo distante, ma non penso. Però... Ah, l'allarme è lì. Ok. Allora. Iniziamo un attimo la carneficina. Comunque devo fare un giro largo. Qui lo parecchio largo. Fammi scavalcare. Scavalca. Dai scavalca. No. Scavalca. Andiamo di qua. Ci passiamo? Oh, bene. Ok. Vabbè, uno che non mi ha marcato. Vediamo un attimo. Vediamo, eh. Perché lui mi sembra un buon bersaglio. No, forse no. Aspetta. Ok. Bravo. Bravo. Aspetta. No, ho preso l'albero. Due palle. No, non l'ho preso. Merdaccia. Eh. Eh, vabbè. Qualcun altro? Andiamo a ricaricare. Verranno a vedere. Ecco, niente. Rimane così. Vieni qui. Ma, ma non... Perché non... Ma cavolo usa il... Cioè, ero col coltellino. E niente, non... Non voleva. Oh. Vabbè. Allora, proviamo con lui stavolta. Ah, troppo. Ok. Quattro coltellini. Oh, madonna. Mi stanno guardando. Fermo. Stanno andando a vedere, forse. Eh, cavolo, però. No, non mi hanno visto, eh. Cioè, mi ha visto colano, ma poi è morto. Ok. Due ne sono rimasti, eh. Andando a vedere. Ok. È rimasto solo il capitano. Credo. Sta arrivando anche un altro là. Ma non è morto. Ma scusa. Inizio. Allora, finora. Boh. Questo là non la capisco. È uno stranissimo bug. Col coltellino il capitano non muore. Ti ricordo che attirano meno attenzione. Sì, va bene, va bene. Lo so. Lo so. Aspetta. Ma ci sta la musica. Aspetta. Sono pronto. Ecco. A posto. Ok. Fatti a vedere qua dentro. Anzi, non è qua fuori. Spegni, 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 spegni. Ok. Grazie. Paita nella foresta. Area collezionabile. Ah, la lettera. Ok. Ma ste lettere sembrano più circospetti. Scusate, ma ste lettere? No. Così è il menu. Due su quattro. Boh. Posso non essere lette da qualche parte. Qua. Aha. Raccogliere Carc 98 Car 98 K con silenziatore. Lo istituisco alla mitaglietta, allora. Ah, bene, bene, bene. Quello che ci voleva. Fucile da cecchino. Eh. Ora sì che si ragiona. Certo che però, dai, devi fare una missione di infiltrazione e non ti presenti col fucile, eh, dai. Non ti do porti dietro. Ah, lì sono tre. Però. Io devo andare di qua. Potrei anche lasciarli perdere, ma... No. No. Proprio per una... una mazza. Aspetta. Ecco. Sicurezza. Tutto il corpo, va. Ok. Bene. Ora è, beh, ora è decisamente tutto più facile. O un po' più facile. Che mi vedono lo stesso. Però... Allora, devo vedere qua... Come potrei infiltrarmi. Grande del previsto. Sono bene in tre. Qui. Poi ci sarà quello sul riflettore. Ma quello sul riflettore. Eh, se io... Eh, si paro così. Tanti saluti, eh. Voglio dire. Oh, così il riflettore non è più un problema. Poi vabbè. Il riflettore non si muove più. E questi non dicono niente. Non fa niente. Va bene. Se non sarebbe... Possibile. Andiamo di qua. C'è una stradina. Posizione elevata. Ok. Sì, servono per perlustrare. Cercare minacci. Esatto. Due tizi, tre tizi. Là c'è un altro riflettore. E direi che me ne occupo subito. Se posso, eh. Se mi è concesso. Eccolo là. Aspetta. Aspetta. Ottimo. Qua però, forse posso entrare. Eh, io entrarei da qua. Questo qua è un buon punto. Opla. Bene. Siamo dentro. Aspetta. Siamo dentro. Allora. Siamo dentro. Siamo dentro. Tornata.